Al posto della tradizionale stretta di mano si sono dati il gomito, come del resto prevede il Galateo, in questi tempi di emergenza Covid. Così è avvenuto il passaggio di consegne alla guida di Confindustria Piacenza, con Francesco Rolleri, che ha preso il posto del presidente uscente Alberto Rota. La nostra priorità adesso è mantenere inalterato il tessuto produttivo piacentino. In questi momenti il fattore tempo è assolutamente determinante, cioè le decisioni che verranno prese dovranno essere prese velocemente per la salvaguardia delle nostre aziende. Dall'altro punto di vista ci sono anche delle grandi opportunità perché nei momenti di crisi le aziende sono più disposte ad aprire quelli che sono i loro piani, i loro progetti e magari possono nascere delle possibilità di fusioni e aggregazioni e magari la possibilità di andare ad affrontare il modo condiviso dei mercati stranieri. Rolleri ha quindi stabilito quali saranno i punti focali della sua gestione. Le prossime settimane saranno proprio dedicate ad affrontare l'emergenza post-Covid e perciò ascoltare tutte le aziende, capire quali sono i problemi che stanno affrontando e vedere come associazione quello che possiamo fare per aiutarle ad uscire da questa situazione difficile. Dopodiché il programma quadriennale è molto più strutturato, parte dalla ricerca e innovazione, dalla possibilità di andare ad affrontare la transizione energetica, le smart city, il credito e finanza, perciò tutti i temi relativi alla liquidità sono estremamente importanti e la pressione che dobbiamo fare nei confronti degli organi governativi per avere una parte dei fondi perduti che dovrebbero arrivare dall'Europa a favorire le aziende e tutte quelle attività commerciali che sono state costrette a chiudere nel periodo del Covid. Come dato attuale abbiamo il confronto aprile su aprile 2019 dove abbiamo avuto un calo del fatturato in medio del 46% e attendiamo la risposta di maggio che sarà a giorni, ci aspettiamo anche maggio un certo calo. Poi vi posso dire, ho la sensazione che industrialmente, a livello industriale, sicuramente giugno sarà in crescita e luglio anche perché rimbalzeranno due mensilità dove sostanzialmente non sono state operative per le nostre aziende semmai il pericolo può nascere dopo le ferie. L'investitura di Francesco Rolleri si è tenuta nella sede piacentina di Confindustria nel ricordo del direttore Cesare Betti, recentemente scomparso. Grazie a tutti.